Rossella, Giuppi, la più piccola delle quattro. Con il passare degli anni, però, la differenza si è assottigliata. Ora siamo diventate tutte coetanee e devo dire che a me a volte piace sentirmi come loro, come le mie sorelle più piccole. Mi fa sentire più giovane. Giuppi è nata il 3 aprile. Questa volta siamo tutti al Cristo Re e c'è anche papà. Credo fosse un sabato, altrimenti mamma lo avrebbe mandato al lavoro, conoscendo il suo carattere apprensivo. Non c'era l'ecografia, il sesso si sapeva alla nascita. All'uscita dalla sala parto papà viene a sapere che ha una quarta figlia femmina. Mamma è un po' dispiaciuta, voleva finalmente dargli un maschio, ma la cosa dura poco. È felicissima delle sue quattro figlie. A quel punto lui se ne esce che vuole chiamarla Giuseppina, come sua madre. Io insorgo, lui non demorde e Giuseppina sia. Giuppi ha un forte senso dell'umorismo e riesce a trasformare anche il suo nome in qualcosa di estremamente carino. Da piccolissima riusciva a dormire solo appiccicata al seno di mamma, come se avesse voluto recuperare il grembo materno. A nostra madre stava per venire un esaurimento nervoso e qualche notte le davo il cambio per farla riposare. Credo che il rapporto fra me e Giuppi sia nato allora, con lei piantata sulla mia pancia e io che non aspetto altro che si addormenti per metterla nel lettino, ma senza successo, perché appena lo faccio si sveglia. Alla fine la stanchezza vince entrambe e dormiamo appiccicate come una cozza allo scoglio. Giuppi ha un modo tutto suo di vedere le cose, è un rapporto con l'energia dell'universo molto particolare. Credo abbia la capacità di attrarre la luce, cosa che a volte la invidio, come invidio la sua pace e la sua capacità di farsi da parte, lasciando a tutti la possibilità di decidere, cosa che a me riesce malissimo, perché voglio sempre avere voce in capitolo e soprattutto voglio che si faccia come dico io. Lei si mette in discussione, io credo sempre di avere ragione e riconosco malvolentieri i miei torti. Con lei faccio chiarezza in me, sempre per merito di quella luce. Non fa nulla di particolare, è semplicemente quello che succede. Il rapporto che Giuppi ha con Fiamma assomiglia molto a quello fra me e Simona. È come se il nostro gruppo di quattro sorelle si fosse diviso in due nuclei che poi, come per incanto, si sono riuniti. Quattro individui diversi ma molto empatici fra loro, che si confrontano continuamente nel costante tentativo di migliorarsi. Le mie sorelle con il loro esempio mi aiutano a crescere, mi fanno venire voglia di essere migliore. Ma con calma però, non devono farci troppo affidamento, sono cresciutelle ormai, quindi ho la sensazione che dovranno tenermi così come sono.